una risposta della lube importante primo set in sofferenza poi siete venuti via sciogliendovi anche un po eliminando un po di ruggine di questa sosta da questa sosta si esatto era una partita molto importante per noi per riscattarci dalla sconfitta di milano sapevamo che qui è un campo difficile e loro sicuramente hanno fatto una buona partita hanno spinto soprattutto il servizio ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel primo set e niente siamo stati bravi a restare lucidi nei momenti importanti e a portarci a casa i tre punti prima volta che la lube gioca scendo in campo le altre squadre danno il massimo contro la capolista è stato così anche questa sera sì sicuramente loro non hanno nulla da perdere quindi hanno il braccio sciolto e tirano tutto in battuta in attacco provano qualsiasi colpo e ora va la spacca quindi sicuramente non sarà facile per noi ma dovremo resistere e rimanere concentrati palla dopo palla stranamente ora si cambia pagina c'è il quarto di finale di coppa italia poi la coppa dei campioni si gioca alla pari non anche le altre squadre dovranno mettere qualcosina in più in campo anche a livello di tensione agonistica non sarà proprio così con le squadre il braccio sciolto come questa sera sì sicuramente noi adesso abbiamo il quarto di finale sarà una partita sicuramente tosta e dovremo essere essere lucidi come quando abbiamo fatto anche questa sera e andare e portarci a casa la partita quello è l'importante